Prima di tutto, questa informazione che molti non vi danno, ve la dico io. Non si deve, e ripeto, non mai invitare un cliente per conoscerlo a mangiare fuori. L'avete scritto? Scrivetevelo. Non si invita il cliente a mangiare fuori quando si incontra. Mai! Non ho detto questo. Io sto dicendo che non si incontra un cliente fuori la prima volta. È chiaro, perché se uno sta uscendo e non vi conosce, si concentrerà sul cibo, che è la cosa che conosce. Perché fare lo sforzo di conoscere qualcuno è impegnativo, è molto più semplice concentrarsi sul cibo. I pranzi di lavoro e tutto il resto vanno bene quando vi conoscete già. E quindi l'attenzione non è più su chi è o davanti. E quindi l'attenzione non è più semplice. E quindi l'attenzione non è più semplice. E quindi l'attenzione non è più semplice. E quindi l'attenzione non è più semplice.